questo buongiorno a tutti benvenuti al webinar di oggi dedicato all'intelligenza artificiale il primo dei due webinar dedicato a questo tema e questo sarà un webinar più di scenario e dedicato al contesto e alla definizione del contesto dell'intelligenza artificiale mentre il secondo webinar che verrà svolto a fine giugno sarà dedicato più a temi legati alle attività di fronte back office e legato molto più ai temi della pubblica amministrazione la registrazione sarà disponibile su territori in rete come per tutti i nostri webinar il webinar sarà condotto da tonia maffei che gran parte di voi conoscono e alla quale passo la parola e per le domande è sempre disponibile la chat e vi invito a scrivere in chat e poi in chiusura ci dedicheremo alle risposte noi siamo qui scrivendo in chat buongiorno bentrovati condivido le slide sperando di riuscire all'inizio allora grazie a narita per per la presentazione come come diceva narita questo è il primo di di due webinar che abbiamo deciso potesse essere utile dedicare al tema dell'intelligenza artificiale nel fronte back office nella pubblica amministrazione con una focalizzazione sull'utilizzo che se ne può fare nell'ambito degli enti locali e in maniera particolare nei piccoli comuni la scelta che abbiamo fatto di dividere in due parti l'esposizione che abbiamo pensato di svolgere i temi che abbiamo pensato di trattare ometisce un po' al modo in cui impostiamo le attività nel progetto quindi quello di utilizzare degli strumenti di proporre degli strumenti che possano essere utilizzati in una maniera anche vasta nell'attività quotidiana della pubblica amministrazione con una focalizzazione però sulle attività appunto del progetto di di assistenza e di affiancamento del progetto. La focalizzazione della nostra linea di intervento dell'ambito B e la transizione amministrativa quindi un supporto per la semplificazione dei processi per un'attività che renda più efficace soprattutto ciò che riguarda la parte delle piattaforme su AppSue. Ovviamente la semplificazione e l'utilizzo di strumenti che si fa nell'ambito di queste piattaforme non tanto dal punto di vista informatico quanto quello dell'organizzazione del lavoro può essere paradigmatico poi per le altre attività di front office e back office degli enti locali e in maniera particolare dei piccoli comuni. Quindi la scelta di individuare due diversi momenti di esposizione risponde sia all'esigenza di avere un po' più di tempo perché l'argomento è molto vasto ma anche di avere un momento iniziale di condivisione di concetti e poi un momento successivo di approfondimento con focalizzazione sui temi che ci riguardano più direttamente come linea di intervento quindi con una serie di racconto di buone prassi per quanto buone prassi si possano definire delle modalità di intervento che sono ancora abbastanza giovani e recenti perché lo strumento dell'intelligenza artificiale nonostante è una cosa che per gli esperti non è nuova però nella parte di utilizzo è molto recente quindi piuttosto forse che di buone prassi si può parlare di brassi operative, di sperimentazione che stiamo vedendo in alcuni contesti. Quindi la scelta di questi due webinar è finalizzata ad avere oggi una condivisione di concetti, di definizione, di panoramiche di quelli che possono essere le opportunità soprattutto per le pubbliche amministrazioni ma anche i rischi, le necessità, gli alert dei quali tener conto. Questa condivisione di concetti potrebbe essere utile e quindi panoramica preliminare potrebbe essere utile poi per condividere anche delle vostre esigenze di approfondimento che possono essere delle curiosità, verifica delle possibilità di utilizzare alcuni degli strumenti che vengono alimentati dall'intelligenza artificiale anche nei vostri contesti, richiesta magari di condivisione di prassi operative su tematiche specifiche. Quindi anche il lasso di tempo che ci sarà tra oggi e il secondo webinar, quindi circa un mese e mezzo, potrebbe essere utile per, ed è una cosa che potremmo fare noi come consulenti di progetto, potrebbe essere utile per rilevare l'interesse o meno che voi possiate avere avuto a valle di questo primo webinar e rilevare appunto, oltre alle domande che potrete fare oggi in chat, se è possibile risponderemo oggi, ma se saranno delle richieste di approfondimento, ecco, noi potremo raccogliere queste richieste per focalizzare poi meglio la seconda parte, quindi il secondo webinar. E quindi dopo questa lunga introduzione entro nell'argomento. Il focus dei due webinar, quindi non soltanto di oggi anche del prossimo, sarà intelligenza artificiale, che cosa intendiamo, quindi un primo contesto definitorio, a che punto siamo con la regolamentazione, quindi il contesto regolatorio a partire dall'intelligent act che è stato approvato in ambito dell'Unione Europea circa un mese fa, ma molto ovviamente rimane poi da regolamentare e non a caso si sta discutendo di un approfondimento in contesto nazionale dell'intelligenza artificiale anche nel nostro paese. Parleremo poi del contesto applicativo, quindi in quali ambiti alimenta l'intelligenza artificiale, in quali ambiti si sono avute nel corso del tempo delle sperimentazioni, in quali ambiti sempre più si sta sperimentando. E poi infine il contesto realizzativo della pubblica amministrazione, quindi quali tempi, quali prassi si stanno attuando o in alcune pubbliche amministrazioni, qualcosa vedremo anche oggi e poi in maniera più specifica nel corso del prossimo webinar. Cominciamo con il provare a individuare che cosa intendiamo quando parliamo di intelligenza artificiale, quindi proviamo a delineare un contesto definitorio sapendo che una definizione precisa non c'è, ma proprio perché è una tecnologia molto in divenire. E come vedremo nel corso del webinar, quando utilizziamo anche il termine stesso di intelligenza artificiale, noi attribuiamo in qualche modo a una tecnologia delle capacità antropomorfe, quindi delle capacità umane. L'associamo nel definire nell'aggettivo artificiale, nell'attribuire l'aggettivo artificiale all'intelligenza, ne stiamo in qualche modo dando una specifica paragonandola all'intelligenza umana e come alcuni autorevoli studiosi della materia ci stanno segnalando forse uno dei problemi è proprio il fatto di attribuire delle capacità antropomorfe a una tecnologia e questo potrebbe creare dei problemi nell'utilizzo, anche quando diciamo che ci chiediamo, in alcuni casi ne diamo una risposta affermativa, ma in ogni caso ce lo chiediamo, l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ecco ci stiamo mettendo in qualche modo sullo stesso piano dell'intelligenza artificiale, come se non la considerassimo soltanto uno strumento, uno strumento potente ovviamente e come se ci mettessimo in concorrenza con una tecnologia e quindi come la possiamo definire l'intelligenza artificiale? Per definire l'intelligenza artificiale dovremmo prima definire l'intelligenza in generale e l'intelligenza umana in particolare e vedremo appunto nelle prossime slide come anche questo non è una cosa semplice da fare. Intanto parliamo di intelligenza artificiale per riferirci alla capacità di un sistema tecnologico di mostrare delle capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività e forse anche queste attribuzioni che diamo alle abilità dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere un gesto di approfondimento, come vedremo. Allora intanto noi perché ne stiamo discutendo moltissimo negli ultimi due anni e in maniera sempre più intensa e pervasiva, ormai associamo il tema dell'intelligenza artificiale praticamente a ogni attività che ci accingiamo a fare, a ogni tema. Perché ne stiamo discutendo tanto negli ultimi anni? Perché non è una tecnologia nuova. Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni. Quello che ha fatto sì che negli ultimi due anni in particolare, soprattutto dall'emergere dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, chat GPT, che noi abbiamo scoperto in Italia soprattutto nell'autunno del 2022, perché il Garante per la protezione dei dati personali ha fermato per un periodo l'utilizzo nel nostro paese perché riteneva fosse necessario verificare l'impatto che questo tipo di tecnologia potesse avere nell'ambito della protezione dei dati personali. Quindi è soprattutto da allora che noi abbiamo scoperto le potenzialità, anche potenzialità importanti ma anche pericolose di questa tecnologia. E l'abbiamo scoperto, ne stiamo parlando molto ultimamente, perché ci sono dei fattori che hanno fatto sì e che sempre di più fanno sì che una tecnologia che pure esisteva e che viene incorporata e è stata incorporata nel corso del tempo in molti dei dispositivi che utilizziamo, dispositivi tecnologici che utilizziamo, la notevole espansione degli ultimi due anni è dovuto intanto all'enorme disponibilità di dati che circolano. e i dati che circolano diventano sempre più numerosi, sempre più veloci, sempre più diversificati perché utilizziamo appunto sempre più le tecnologie. Questo è avvenuto soprattutto nel periodo successivo alla pandemia di Covid quando ci siamo resi conto che molte attività potevano essere fatte anche a distanza. Questo però, questo svolgere molte attività a distanza, ha fatto sì e sempre più fa sì che rilasciamo in rete un'enorme quantità di dati. Questi dati sono, con un'espressione che si è usata in passato, una sorta di petrolio per l'effetto della circolazione dei dati, l'importanza anche economica dei dati è stata paragonata a quella del petrolio per la ricchezza che possono generare ovviamente da parte di chi possiede le tecnologie, le competenze e la possibilità di utilizzarla. E quindi intanto abbiamo avuto negli ultimi anni questa enorme quantità di dati prodotti in maniera sempre più veloce e in maniera sempre più diversificata. hanno avuto, questo è un primo elemento, è aumentata di molto anche la potenza dei computer, dei dispositivi, quindi di processare, quindi un'aumentata potenza in termini di velocità e di capacità di processare quantità ingenti di dati. Poi un ulteriore elemento, non ultimo per importanza perché poi è quello che ci consente di confrontarci soprattutto con l'intelligenza artificiale generativa, è stata la capacità di elaborare il linguaggio naturale e questo ha aumentato la diffusione della tecnologia negli ultimi anni. Tanto più che si dice che quale sarà il prossimo linguaggio di programmazione, che il prossimo linguaggio di programmazione sarà l'inglese, sarà l'italiano, sarà il francese, il tedesco, il cinese. Il prossimo linguaggio di programmazione sarà il linguaggio naturale, perché e lo è già in qualche modo, perché i nuovi dispositivi sono capaci in qualche modo di scriversi anche i codici che noi possiamo indicare con un linguaggio naturale, mentre fino a pochi anni fa erano necessari, non che non lo siano più necessari ovviamente i tecnici informatici, però una sorta di barriera sui comandi da dare ai dispositivi è venuto meno nel momento in cui questi dispositivi riescono a interagire con il nostro linguaggio naturale. E qui ho messo in fila un po' di applicazioni che conosciamo e che incorporano dispositivi, strumenti, tecnologie di intelligenza artificiale. Pensate agli assistenti virtuali, quelli che sono integrati negli smartphone, negli smart speaker, negli altri dispositivi. Aiutano a svolgere compiti come impostare le sveglie, fare chiamate, controllare il meteo, accendere e spegnere la luce e possono fare molto altro se si è in grado di chiederglielo. Poi probabilmente nella maggior parte dei casi li sottousiamo rispetto alle potenzialità che hanno, però sono dei dispositivi con i quali interagiamo in una maniera abbastanza diffusa. Questi sono dispositivi che riconoscono il linguaggio, riconoscono il nostro nome, riescono a riconoscere ciò che chiediamo anche se non è espresso con un linguaggio codificato e quindi ci danno l'impressione di essere sensibili. I sistemi di raccomandazione, ci sarà capitato di utilizzare Netflix, Spotify, Amazon o comunque i siti di e-commerce. Questi sistemi analizzano i dati, le nostre abitudini di consumo, ma anche soltanto di acquisto, ma anche solo di visualizzazione di prodotti che possono essere prodotti da acquistare o servizi da acquistare, come nel caso di Netflix, di Spotify e consigliano altri contenuti, altri prodotti o altri servizi coerenti con quelli che hanno individuato essere i nostri interessi. I chatbot è quello che citavo prima, i chatbot sono dei programmi di intelligenza artificiale, i chat GPT è stata la prima che abbiamo conosciuto e una delle prime che abbiamo conosciuto e sono dei programmi in grado di simulare una conversazione con un essere umano e possono essere utilizzati per molteplici attività, molteplici servizi, fino a generare anche testi creativi. Su quanto siano creativi faremo anche su questo un approfondimento successivo sapendo che questa presunta creatività provoca problemi in termini di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, perché i testi creativi, le immagini creative, i suoni, le musiche creative che questi sistemi creano, danno l'impressione di creare, sono in qualche modo messe insieme, rielaborate, sono dei dati, delle creazioni che in qualche modo già esistono nei nostri sistemi, sono dei prodotti della creatività umana che vengono assemblati con delle modalità diverse, ma è in qualche modo un pescare da parte di questi sistemi nell'esistente, nel patrimonio culturale di creazioni, di produzioni esistente umano. Sono produzioni generalmente coperte da diritto d'autore, da proprietà intellettuali e quindi c'è un ambito molto vasto che si sta aprendo su questo, oltre alla questione dei deepfake, quindi di ciò che può essere creato in termini di immagine, per esempio connessi a dei personaggi noti, che possono essere immagini, voci, che possono essere rielaborate in atteggiamenti, in contesti che non sono mai esistiti, ma che possono, sono così realistici, da far incorrere chi guarda queste immagini o ascolta gli audio ricreati con una voce molto simile a quella di personaggi noti, possono far immaginare che si trovi davvero di fronte a un'immagine, appunto, o un intervento, un discorso del personaggio che si vede di fronte. Ancora le auto a guida autonoma, anche le auto a guida autonoma utilizzano l'intelligenza artificiale per navigare sulle strade, per evitare ostacoli, per interagire con altri utenti della strada. Le auto a guida autonoma sono una sperimentazione che si sta attuando da vari anni. Come vedete non ci sono nelle nostre strade, ce ne sono poche anche nelle strade degli altri paesi, perché il problema delle auto a guida autonoma sono gli esseri umani, perché in un contesto in cui circolassero esclusivamente delle auto a guida autonoma oppure dei robot, degli automi, quindi soggetti dispositivi con comportamenti codificabili, questo sarebbe possibile, cioè sarebbe possibile un contesto di interazione di dispositivi con comportamenti codificabili. Lì dove i dispositivi a guida autonoma con comportamenti codificabili si trovano in contesti in cui esistono anche gli umani e lì gli umani non hanno un comportamento sempre prevedibile e quindi in quel caso è in quel caso che sorgono i problemi. Ed sono degli elementi sui quali ancora non si è riusciti a trovare una quadra ed è il motivo per cui poi nelle nostre strade le auto a guida autonoma non ci sono oltre a tutti i problemi di responsabilità, per esempio, che si porrebbero nel momento in cui ci fosse un incidente, per esempio un danno a persone o a cose, a chi è attribuibile in quel caso la responsabilità, a chi ha costruito il dispositivo, a chi lo ha comprato, a chi lo sta utilizzando, quindi anche su questo sono elementi su cui si sta riflettendo in relazione ai quali le normative, il diritto, stanno cercando di individuare delle modalità anche per analogia con altre norme riferite a dei soggetti non umani. E infine, per esempio, nell'ambito delle applicazioni di riconoscimento facciale, la tecnologia di riconoscimento facciale viene utilizzata per identificare le persone in immagini e video, è utilizzata in diversi contesti, ad esempio il controllo degli accessi e anche questa applicazione vive di intelligenza artificiale. Proviamo adesso, vi avevo anticipato, proviamo a capire quando parliamo di intelligenza artificiale di cosa parliamo e proviamo a capirlo per analogia o per differenza rispetto all'intelligenza che in maniera principe individuiamo come quella diffusa, l'intelligenza umana. Come funziona l'intelligenza umana? Proviamo a vedere come funziona l'intelligenza umana e poi proviamo a individuare dei parallelismi o delle differenze con l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza umana, ora ovviamente le cose che vi dirò sono semplificate in un'ottica divulgativa, io non sono un'esperta di neuroscienze, quindi ho provato ad approfondire degli elementi utili appunto nell'ottica del parallelismo con l'intelligenza artificiale. Poi l'intelligenza umana è molto più complessa e inesplorata in parte rispetto alle cose che vi dirò, come sarà evidente. L'intelligenza umana ha un bagaglio di memoria, noi abbiamo una memoria che è fatta di ricordi, di esperienze e fatta di conoscenze immagazzinate. Abbiamo poi un sistema di sensori. Ora ho provato a individuare dei termini che possano essere utili poi per il parallelismo con l'intelligenza artificiale, quindi noi parliamo di memoria per l'intelligenza artificiale, abbiamo una memoria come intelligenza umana, quindi questa memoria fatta di ricordi, esperienze e conoscenza. Quindi un bagaglio di elementi che stanno lì e via via vengono attivati da che cosa? Vengono attivati anche da un sistema di sensori, anche noi abbiamo un sistema di sensori come i dispositivi, abbiamo la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto, sono sensori che ci fanno prendere percezione del contesto in cui ci troviamo. Quindi alla vista per esempio di un pericolo attiviamo, oppure all'udito di un pericolo, per esempio una sirena, attiviamo il bagaglio di ricordi, di esperienze, di conoscenze, quindi come ci si comporta di fronte a un pericolo. e nel momento in cui si attiva, si attivano i sensori e la memoria c'è un'analisi, quindi di questi dati che in parte vengono dalla memoria, in parte dall'analisi della realtà, elaboriamo questi dati e prendiamo delle decisioni. Come le prendiamo queste decisioni? Ammesso che le decisioni siano prese in qualche modo in maniera razionale attraverso la logica per esempio che ci permette di formulare di valutare la coerenza delle informazioni, formulare argomentazioni, magari in maniera estemporanea, quindi in pochi secondi, non necessariamente attraverso un processo lungo. e attraverso la logica proviamo a trarre delle conclusioni razionali. A queste conclusioni razionali però integriamo anche l'intuito, le emozioni, le esperienze passate, sono degli schemi mentali complessi che fanno parte del processo decisionale. Quindi sono vari elementi che attiviamo nel momento in cui elaboriamo i dati, perché anche noi poi elaboriamo dati e informazioni e prendiamo delle decisioni. L'intelligenza umana è l'unica forma di intelligenza che si oppone, si può porre in parallelo rispetto a quella artificiale, non è l'unica forma di intelligenza, sempre più si stanno studiando delle forme diverse di intelligenza, per esempio l'intelligenza delle piante. Intanto una definizione di intelligenza può essere sapere come comportarsi quando non si sa come comportarsi, è quel in qualche modo prendere delle decisioni razionali finalizzate alla propria sopravvivenza, in contesti non conosciuti. Anche le piante hanno un'intelligenza, se la poniamo così. Ora, sulla definizione di intelligenza, ultimamente proprio perché siamo costretti a riflettere, siamo portati dall'intelligenza artificiale a riflettere anche sulle altre forme di intelligenza, ultimamente sono state aperte delle piattaforme, una piattaforma per raccogliere le diverse definizioni di intelligenza, a oggi mi sembra tra studiosi e ricercatori sono arrivate a 76 definizioni di intelligenza, quindi ovviamente sto semplificando molto e non arriviamo a una definizione univoca, però in qualche modo appunto è la capacità di agire in contesti non conosciuti, in una maniera più o meno razionale, utile alla propria sopravvivenza e le piante lo fanno. Le piante per esempio hanno questa forma di intelligenza che funziona in una maniera completamente controintuitiva rispetto all'intelligenza umana. Per esempio, ma che è dovuta questa modalità controintuitiva di intelligenza è dovuta anche alla diversa struttura morfologica delle piante rispetto agli esseri umani. Gli esseri umani di fronte a un pericolo possono scappare, per cercare il cibo possono muoversi e le piante invece sono radicate al terreno, al territorio e quindi come ci si salva di fronte a un pericolo, come si cerca il proprio sostentamento lì dove non ci si può muovere, se le condizioni ambientali non sono favorevoli e non ci si può muovere, come ci si procura il sostentamento? Ecco, le piante hanno sviluppato delle modalità per sopravvivere comunque. Intanto per esempio non hanno un cervello, un sistema nervoso centrale e non hanno la concentrazione di funzioni in organi singoli. Alcune funzioni sono distribuite sull'intero un essere vivente. Questo fa sì che anche se dovessero perdere delle parti considerevoli del proprio organismo, magari perché attaccati da animali oppure per reazioni a problematiche ambientali, ecco quell'organismo vivente non rischia la sopravvivenza pur mantenendo soltanto una piccola parte del proprio essere vivente e questa è una cosa che negli esseri umani non c'è e quindi è una modalità che hanno sviluppato per reagire a dei contesti magari non favorevoli. Hanno un sistema di sensori diffusi su tutto il corpo. Voi mi perdonerete questo soffermarmi su degli elementi, delle cose che sembrano altre rispetto all'argomento di oggi, ma è perché volevo provare a contestualizzare il perché forse poi noi parliamo di intelligenza artificiale utilizzando, temendo o temendola oppure immaginandone delle possibilità eccessive rispetto a quelle che forse potrebbero essere più realisticamente inserite in un contesto di utilizzo strumentale. E quindi questo parallelismo con altre forme di intelligenza è per provare a indicare, come una serie di autorevoli studi stanno facendo, provare a indicare il fatto che l'intelligenza artificiale non ha le caratteristiche di forme di intelligenza di esseri viventi in qualche modo e quindi forse potrebbe essere individuata in una maniera maggiormente strumentale rispetto a quanto oggi facciamo. Questo ci potrebbe aiutare appunto a inserirla nella nostra quotidianità anche lavorativa appunto dell'organizzazione del lavoro in una maniera più razionale e intelligente appunto. E quindi dicevo, le piante hanno un sistema di sensori diffusi su tutto il corpo e questo fa sì che pur non vedendo e non potendosi spostare interagiscono con l'ambiente e quindi si muovono per capire la luce, l'acqua, l'ossigeno, per catturare gli animali, per usarli come impollinatori, comunicano attraverso segnali chimici, hanno una memoria che non è la memoria dei fatti ma è la memoria delle reazioni da adottare. Quindi una forma di intelligenza di esseri viventi completamente diversa rispetto a quella umana. E c'è un'altra forma, e con questo a voi finisco con una parte di parallelismi, un'altra forma di intelligenza che non è quella umana, non è quella delle piante, non è quella artificiale ed è l'intelligenza collettiva, è quella degli sciami, degli stormi, delle colonie di formiche. Ovviamente quando vediamo il muoversi di uno stormo, la via di colonie di formiche, la costruzione di un alveare, allora l'impressione che si ha è che è come se ci fosse una regia intelligente nel raggiungere l'obiettivo. Ma è come se quella regia intelligente fosse una regia collettiva, perché noi non vediamo in uno stormo di uccelli chi dirige il volo. E così come in una colonia di formiche, negli sciami, ora al di là del fatto che ci sia la peregina, però non c'è, anche se c'è la peregina, non c'è una direzione della costruzione dell'alveare. È come se in questi contesti la somma delle diverse interazioni dei soggetti che fanno parte dello stormo, delle colonie, degli sciami fosse qualcosa di autonomo rispetto al singolo partecipante, al singolo elemento di quello sciame, stormo e colonie, che ha una quantità di intelligenza singola molto più limitata rispetto a quella che il gruppo manifesta insieme e che presenta delle caratteristiche sorprendenti. E in questo caso l'intelligenza collettiva è la diffusa capacità di reagire tutti insieme agli stimoli esterni e di rimanere in sintonia costante con l'ambiente circostante. La comunicazione che fa sì che i soggetti si scambino una sorta di messaggi per armonizzarsi nel raggiungere l'obiettivo avviene tramite il tatto, può essere il tocco di un ala oppure delle tracce chimiche o ormonali. In questo caso di fronte anche al problema operativo di un componente un altro gli subentra e lo supporto lo sostituisce. Una formica è abbastanza indifferente rispetto all'altra. Vediamo che appunto se anche magari una parte vengono distrutte non per questo si ferma la costruzione e il raggiungimento dell'obiettivo. È quindi una forma ancora diversa di intelligenza. Arriviamo all'intelligenza artificiale. Come funziona? Anche nell'intelligenza artificiale c'è la memoria, lo sappiamo. La memoria è costituita da una quantità ingente di dati. C'è una rete di sensori, possono essere delle telecamere, dei microfoni. Ci sono dei dispositivi che analizzano in una maniera veloce e con enorme potenza, sempre maggiore, analizzano queste informazioni, questi dati e labbonano i dati. Ho sbagliato a dire le informazioni perché le informazioni sono in qualche modo dei dati rielaborati a cui è stato dato un senso. I dati sono delle unità. Individualmente presi potrebbero non avere nessun significato. La modalità con la quale vengono elaborati e le istruzioni che vengono date alla macchina, quindi gli algoritmi che sono appunto le istruzioni per dire alla macchina cosa vogliamo che venga fuori da quei dati, dalla rielaborazione di quei dati. Quindi attraverso questa rete di sensori, attraverso i super computer che hanno una capacità di analizzare i dati, i dispositivi elaborano e prendono delle decisioni, quindi producono un output. Quindi il parallelismo può essere considerato rispetto all'intelligenza umana perché anche nel nostro caso abbiamo detto che esiste una memoria che è fatta di conoscenze, di esperienze, di ricordi. Abbiamo detto che abbiamo una rete di sensori, in questo caso sono le telecamere o i microfoni, nel nostro caso è la vista, il tatto, l'udito. C'è una capacità di rielaborare, di prendere decisioni, quindi che cosa è diverso realmente? È diverso il procedimento, perché abbiamo detto che in una maniera molto divulgativa, abbiamo detto che noi come esseri umani prendiamo decisioni, i processi mentali che portano a assumere delle decisioni sono determinate dalla logica, dall'istinto, ma anche dagli obiettivi che ciascuno di noi ha, nel caso dei dispositivi è diverso il procedimento. Le macchine prendono delle decisioni attraverso modelli e correlazioni, prendono delle decisioni, forniscono degli output soprattutto tenendo conto di tecniche di probabilità, in una maniera anche qui molto superficiale, diciamo così, ma per capire in che modo possono essere utilizzati questi strumenti, ma anche poi i punti di debolezza di questi strumenti. Nel momento in cui chiediamo, per esempio, a un dispositivo di intelligenza artificiale generativa di costruire una delibera, per esempio possiamo chiedere a Gemini, a ChatGPT o a uno degli altri dispositivi di intelligenza artificiale generativa, possiamo chiedere, gli possiamo dare un prompt, si dice un ordine, una modalità con la quale possiamo interagire con questi dispositivi, possiamo dirgli, scrivergli o dirgli in audio, sei un dipendente del comune di Roma, devi elaborare una delibera per attivare un servizio mensa, oppure per attivare un servizio di poemini scolastici. Scrivimi la delibera, come ragiona, come prende la decisione, come produce l'output il dispositivo? Verifica, secondo una tecnica di probabilità, quindi quello che noi pensiamo sia una creatività della macchina, che in qualche modo è andare rapidamente a verificare le delibere alle quali ha accesso, quindi dai dati, dalle informazioni con le quali è stata alimentata, o che trova in altri ambiti, perché anche questo è un ulteriore elemento quando diciamo che le macchine imparano o individuano degli output dove anche gli stessi programmatori fanno fatica a capire come funziona. In sintesi, verificano la delibera più probabile tra quelle alle quali hanno accesso, verificano qual è una sorta di delibera che possa essere utilizzata come output e ve lo fornisce in prima battuta. Si può poi, qualora si ritiene che alcuni elementi non funzionino, non siano corretti, per approssimazioni successive si possono chiedere delle spiegazioni, magari una maggiore creatività, però la macchina quello che produce e che per noi è un elemento di creatività è il prodotto della somma più probabilistica, diciamo così, degli elementi che esistono già in natura, che sono stati prodotti dagli esseri umani. Quindi ragiona con una tecnica di correlazione che è molto diversa rispetto a quella degli esseri umani e quindi possiamo davvero definire intelligenza, la capacità operativa delle macchine? Allora, secondo vi citavo qualche minuto fa all'inizio del webinar le affermazioni di Luciano Floridi che è uno dei maggiori studiosi di etica delle macchine e dell'intelligenza artificiale, lui ci dice che è forviante l'idea che le macchine possano imitare la nostra condizione biologica. È forviante soprattutto il fatto che noi nel corso del tempo abbiamo il fatto di utilizzare per definire degli elementi costitutivi dell'intelligenza artificiale, degli elementi che utilizziamo per definire anche l'intelligenza delle persone, quindi l'apprendimento, la memoria, ma anche le allucinazioni. Per esempio, nel momento in cui le macchine fanno degli errori, noi diciamo che hanno delle allucinazioni, ma l'allucinazione è una distonia percettiva, in qualche modo le macchine non hanno una percezione, le macchine possono fare degli errori. Allora lui dice che il fatto di attribuire queste capacità, questi elementi alle macchine, capacità antropomorfe, caratteristiche antropomorfe, sta facendo sì che noi rischiamo di fare un uso distorto anche di queste macchine. Allora è vero che, appunto cita anche questo, il fatto che nel momento in cui emergono nuove scienze, nuovi dispositivi, queste scienze mancano di un vocabolario tecnico e quindi per descrivere fenomeni che non hanno ancora un loro patrimonio definitorio e lessicale, noi utilizziamo un lessico che viene preso in prestito da altre scienze o da altri contesti ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con l'intelligenza artificiale. Però nel caso dell'intelligenza artificiale, diciamo, il problema di questa concezione antropomorfa e di questo utilizzare un lessico vicino a quello dell'intelligenza umana è attribuibile anche alla forte velocità di sviluppo e di espansione di queste macchine e della tecnologia che li sostiene, tanto da far sì che non ci sia stato il tempo, il modo di creare un lessico specifico e quindi noi continuiamo ad utilizzare il lessico che viene preso in prestito dalle scienze cognitive. Questo però appunto fa sì che noi attribuiamo questa concezione antropomorfa alle macchine e rischiamo però appunto di sopravvalutarla o di sottovalutarla ma in qualche modo di dare delle caratteristiche e quindi un'operatività che rischia di essere distonica rispetto alle reali possibilità di utilizzo. Intanto possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale perché abbiamo detto che è già presente in molti dei dispositivi che utilizziamo e se mettiamo che nel caso di un sistema che consiglia che cosa comprare o che cosa vedere, qualora l'intelligenza artificiale si sbagliasse nel consigliarci un prodotto da comprare o un film da vedere, alla fine il danno non sarebbe così grave, certo magari compriamo una cosa che non ci interessa o guardiamo un film che a metà lasceremo perché non corrisponde al nostro interesse, alle nostre caratteristiche e quindi in alcuni casi se anche la macchina sbaglia il problema non c'è, in altri casi se la macchina sbaglia i problemi possono essere ingenti perché potrebbero avere un impatto dirompente sulla vita delle persone possono essere la macchina guida autonoma che provoca degli incidenti ma potrebbe essere per esempio una decisione presa da una pubblica amministrazione alimentata da software di intelligenza artificiale o comunque da software, da meccanismi automatici di decisione che potrebbero avere un impatto sulla vita delle persone pensate a un'amministrazione che si affidi a un'intelligenza artificiale per assegnare degli edifici di edilizia popolare oppure come è successo ed è stato un problema evidente, il ministero dell'istruzione aveva utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale nei fatti per assegnare le sedi agli insegnanti. Ecco in quel caso ci sono stati problemi nell'assegnazione perché non aveva tenuto conto questo software di una serie di criteri, di priorità, di problematiche, di scelte ma il problema vero poi è stato, per cui è diventato dirompente questo caso, il problema vero è stato che chiamate in giudizio in qualche modo chiesto spiegazioni al ministero sul perché fossero state fatte delle scelte quindi assegnate a degli insegnanti delle sedi piuttosto che altre non tenendo conto appunto in pieno dei criteri i coloro che avevano utilizzato questo strumento non hanno saputo dare una spiegazione perché c'è uno dei problemi di questi software e che sono spesso una sorta di scatola nera, cioè non si sa come arrivino a prendere delle decisioni e ovviamente se ci può importare poco di come l'algoritmo di Amazon o di Netflix arrivi a consigliarci un libro piuttosto che una serie o un acquisto diventa invece necessario per la pubblica amministrazione che si basa su criteri di trasparenza, di partecipazione, di accesso, di spiegazione e quant'altro sappiamo diventa necessario dare spiegazioni sulle modalità con le quali si arriva a una decisione, a un provvedimento e quindi questo potrebbe essere da una parte una barriera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli atti delle pubbliche amministrazioni a meno che non ci sia una supervisione umana e anche in questo senso si è andati con l'intelligent act dell'Unione Europea quindi è sempre necessario lì dove ci può essere un rischio per le persone, per i cittadini, per chi subisce le decisioni, gli impatti delle scelte è sempre necessario che ci sia la supervisione umana e può diventare però sempre più difficile che la supervisione umana arrivi a spiegare e comprendere degli algoritmi che come diciamo possono imparare, possono attingere più che imparare attingere a dati che si trovano in rete e che non sono controllati e controllabili anche perché sempre di più produciamo dei dati allora se immaginate in una fase iniziale, in una fase in cui non utilizzavamo in maniera così diffusa e pervasiva i dispositivi e quindi non lasciavamo in rete così tante tracce non parlo soltanto dei social network ma tutto quello che facciamo in qualche modo ormai produce dati, le telecamere per esempio ma anche gli audio, tutto ciò che viene registrato che può essere temperatura, qualunque cosa può essere soggetta a registrazione e immagazzinamento di dati mentre in un periodo iniziale in cui non venivano generati così tanti dati dall'interazione di esseri umani con le macchine, i dispositivi potevano imparare da ciò che era certificato e codificato come produzione degli esseri umani, quindi le norme, la letteratura, l'arte, i libri ciò che era frutto di codifica del sapere umano, dell'accessibilità al sapere umano oggi questi dispositivi, i dispositivi attingono a dati che vengono generati in continuazione e vengono generati ovviamente in una maniera incontrollabile come facciamo quindi a sapere anche al di là del fatto che l'algoritmo possa essere formalmente corretto quindi che le istruzioni che noi forniamo alla macchina pur partendo appunto dalla consapevolezza che possano essere corrette le istruzioni come facciamo ad essere certi che poi queste istruzioni non portino a un risultato falsato in qualche modo dalla tipologia di dati ai quali le macchine attingono ora nel corso del webinar proverò a essere più chiara su questo elemento però appunto uno dei problemi sul fidarci delle decisioni algoritmiche è proprio il fatto che questi dispositivi a meno che non vengano dati dei dataset di informazioni ai quali attingere che sono dei dataset controllati e certificati come può essere appunto la banca dati di un comune un comune potrebbe decidere di un ente locale potrebbe decidere di utilizzare dei meccanismi di intelligenza artificiale vedremo in seguito dei chatbot lo stanno cominciando a fare molti enti locali i chatbot per dare risposta alle domande ricorrenti dei cittadini se il sistema viene impostato con delle istruzioni che attingono a dei dataset certificati quindi il problema dell'output che si produce è molto limitato nel senso che essendo controllati sia le istruzioni che vengono date sia i dati ai quali attingere tendenzialmente si è abbastanza certi che l'informazione che verrà restituita dalla macchina è un'informazione conforme e coerente con le intenzioni dell'ente locale se invece le istruzioni che vengono date fanno sì che la macchina attinga ai dati della rete in quel caso non si può più controllare l'output perché non si possono controllare i dati ai quali la macchina attinge e quindi perché abbiamo dei dubbi a fidarci dell'intelligenza artificiale invece ci fidiamo degli umani in che senso dico questo un chatbot potremmo come comune decidere che sia un chatbot a dare delle informazioni su il tipo di modulistica necessaria per chiedere un'autorizzazione oppure per presentare una domanda noi se codifichiamo le istruzioni da dare al chatbot e gli indichiamo attraverso queste istruzioni correttamente il dataset al quale attingere tendenzialmente siamo abbastanza sicuri che la risposta che darà sarà corretta perché avremo già impostato come a fronte di determinate domande si debba rispondere se invece non viene impostato con un set di dati chiusi ma diamo al chatbot la possibilità di attingere dalle informazioni in rete il problema ci potrebbe essere se per esempio sul sito di un comune si dà la possibilità di chiedere al chatbot messo a disposizione quali feste si svolgono nell'ambito del territorio comunale in generale non quelle codificate dal comune e quindi indicate come risposta corretta il chatbot se ha la possibilità di attingere i dati della rete potrebbe prendere diciamo così delle informazioni non corrette oppure totalmente distonanti rispetto all'etica e alle intenzioni del comune e quindi però perché noi non temiamo che la stessa cosa possa fare un essere umano e quindi un dipendente comunale noi ci fidiamo degli umani perché nel caso per esempio dei dipendenti c'è un impianto consolidato e sistemico di formazione, regoli, controlli, sanzioni quindi sappiamo che per essere contrattualizzati nella pubblica amministrazione è necessario avere un determinato titolo di studio sarà necessario svolgere delle selezioni, ci sono dei controlli, ci sono delle sanzioni nel caso in cui non ci si attenga a quanto previsto nell'ambito contrattuale quindi abbiamo un impianto consolidato nel corso degli anni questo impianto consolidato nel caso dell'intelligenza artificiale ancora non ce l'abbiamo e quindi molto di più deve essere fatta attenzione agli impieghi nei quali la utilizziamo e in ogni caso appunto sotto la supervisione degli umani che invece sottossano a questo impianto consolidato e sistemico quando parliamo quindi avete già visto da queste poche cose iniziali che il tema dell'intelligenza artificiale è fortemente interrelato con molti ambiti del nostro contesto quotidiano quindi filosofia, etica perché parliamo di confronti con gli esseri umani è fortemente interrelato con il diritto che sta cercando di capire e di adeguarsi rispetto all'evolversi delle tecnologie quindi in termini di responsabilità, di proprietà intellettuale ma anche di sicurezza, di responsabilità in un ultimo il tema della privacy e della protezione dei dati personali perché non è oggetto oggi di questo webinar però è evidente l'impatto che la necessità che hanno i dispositivi di intelligenza artificiale di alimentarsi di alimentarsi di dati è evidente come questo impatta con le normative sulla protezione dei dati oggi noi oggi e nel prossimo webinar parleremo di intelligenza artificiale connessa all'organizzazione del lavoro perché è quello che ci interessa ai fini della linea di attività del nostro progetto ovviamente sullo sfondo questi temi appunto dell'etica, del diritto, della sicurezza, della privacy rimangono e alimentano le indicazioni, gli alert, le necessità, le opportunità che vedremo relative a un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione che tra l'altro è prevista dal piano triennale per l'informatica quindi non è più soltanto una velleità di qualche dipendente o dirigente il fatto di utilizzare l'intelligenza artificiale nell'attività della pubblica amministrazione è previsto è previsto con una serie in modalità sperimentale, con una serie di alert, con una serie di attenzioni e quindi è necessario conoscere, sapere quali sono gli ambiti nei quali eventualmente può essere applicato e soprattutto con quale livello di applicazione e quindi ora proviamo a vedere cosa si può fare utilizzando l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione prima di andare a qualche esempio, io mi fermo un attimo perché non riesco a vedere se ci sono delle domande chiedo ad Anna Rita la cortesia di dirmi se ci sono domande, riflessioni, sollecitazioni di qualche genere c'è una riflessione molto interessante che posso far vedere direttamente in chat noi siamo praticamente nella stessa sostanza quindi guardo sul tuo computer senza togliere la condivisione dell'ischermo allora in Regione, Frivi Venezia, Giulia, Monica Felaetich che saluto sto cercando di convincere i miei superiori a sperimentare un chatbot tematico con le procedure suop dando gli impasto come base di attingimento dati solo le informazioni presenti sul portale regionale scusa perché c'è una cosa che mi impede solo sul portale regionale e altri siti certificati come quelli ministeriali e fotti di cognizione come normative e le lex regionali proprio per evitare le distorsioni che deriverebbero da lasciare libero il botto e di pescare le informazioni ovunque è proprio quello che in qualche modo il piano triennale segnala e che consentirebbe appunto di sperimentare in un contesto protetto uno strumento che potrebbe essere molto utile e che in alcuni contesti appunto come cominceremo a vedere ora con questa schermata del comune di Alberobello viene utilizzata per lo più e sempre in contesti protetti sapendo che anche in quel caso anche in contesti protetti delle volte ci possono essere appunto quello che vediamo viene definita allucinazione che poi non è appunto un'allucinazione noi attribuiamo questa caratteristica umana ma sono degli errori del momento in cui si estrapolano e si rielaborano le informazioni però ovviamente è tutto molto più protetto controllabile ed eventualmente spiegabile e rettificabile un'altra delle cose che viene segnalata dal piano triennale sull'informatica degli studiosi che è la necessità di testare prima all'interno delle pubbliche amministrazioni poi magari con delle piccole sperimentazioni esterne gli esiti anche per tarare le domande alle quali dare risposte quindi è vero che in molti casi c'è la possibilità di chatbot evoluti che riescono a interpretare il linguaggio umano però in questo caso ci possono essere più errori rispetto al fatto di prevedere proprio quelli che erano i vecchi menu a tendina con delle risposte chiuse che magari aiutano anche l'utente a identificare più facilmente qual è l'ambito della richiesta qui vedete questa schermata il Chiedi lo ammina l'assistente virtuale del comune anche costruita con degli elementi caratteristici di attrattiva il comune di Alberobello utilizza questo chatbot come assistente virtuale e come vedete nella parte quindi si possono fare delle domande fornisce delle informazioni e come vedete nella parte alta della schermata c'è la possibilità di interagire in più lingue ecco questo è uno degli esempi dell'utilizzo che si può fare per esempio dell'intelligenza artificiale quello di tradurre in più lingue lingue veicolari o anche lingue meno diffuse ma che possono essere magari le lingue nazionali di origine nazionale di turisti oppure di persone presenti per lavoro nei diversi paesi e questo è un elemento in qualche modo di inclusività il fatto di tradurre e di rendere disponibili direttamente informazioni modulistiche o quant'altro può essere richiesto in più lingue ovviamente anche in questo caso le traduzioni visto che questi dispositivi imparano dall'esperienza diciamo così per utilizzare un termine che non si dovrebbe utilizzare perché ha a che fare con le modalità umane di interazione questi dispositivi comunque sono diventano tanto più efficienti quanto più hanno dati a disposizione con i quali interagire da processare diciamo così e ovviamente in rete esistono come dati come dati digitali esistono molti più dati in lingua inglese piuttosto che in una lingua polinesiana e questo fa sì che nel processare le informazioni e tradurre in lingua inglese dall'italiano sarà molto più puntuale la traduzione rispetto alla traduzione magari in una lingua parlata da poche persone ma soprattutto magari che non non ha in rete molti documenti molte informazioni molti dati ai quali attingere per appunto istruirsi diciamo così i chatbot nella pubblica amministrazione possono sono una al momento delle forme di intelligenza artificiale più utilizzate vanno da chatbot semplici a dei chatbot più evoluti e sono una modalità abbiamo detto nel il titolo di questo webinar è l'intelligenza artificiale nel front e back office nel front office e back office nella pubblica amministrazione come detto vedremo meglio nel prossimo webinar i focus sulle esperienze però già qui possiamo vedere qualcosa che ha a che fare sia col front office che con il back office e il chatbot è uno degli strumenti con i quali può interagire il front office e quindi l'utente ci sono dei chatbot semplici altri dicevo evoluti chatbot semplici sono quelli che rispondono alle domande degli utenti basandosi su un set di regole predefinite sono una sorta di di fac magari rese in maniera più fruibile invece che che scritte magari sono rese in una modalità più divulgativa perché possono essere date con un audio e con appunto una figura antropomorfa che rende magari più più friendly diciamo più amichevole la pubblica amministrazione questi chatbot semplici sono utili per le informazioni più semplici più ripetitive ad esempio per dare gli orari di apertura di un ufficio i contatti dei referenti i documenti richiesti per un servizio per prenotare appuntamenti però pur essendo delle informazioni semplici sono comunque degli strumenti che eliminano una parte di lavoro del del dipendente dell'operatore perché magari evita di rispondere al telefono a chi vuole sapere all'utente che vuole al cittadino che vuole conoscere gli orari di apertura dell'ufficio oppure vuole sapere quali moduli utilizzare quali documenti quindi comunque sono una semplificazione dell'attività amministrativa dell'attività quotidiana dall'altra parte i chatbot più evoluti possono fare molto di più quindi comprendono il linguaggio naturale generano risposte più personalizzate in questo caso i modelli di linguaggio sono utilizzati sono addestrati su grandi quantità di dati quindi testi conversazioni in modo anche da poter riconoscere le intenzioni degli utenti e rispondere in una maniera appropriata questi chatbot di front office e quindi di interlocuzione con gli utenti richiedono però una parte importante di costruzione di back office ed è la parte su cui poi ci focalizzeremo la prossima volta ed è importante perché il fatto stesso di dover costruire un back office adeguato all'utilizzo di un chatbot è un elemento di semplificazione perché intanto perché bisogna costruire esempi di domande e risposte quindi bisogna analizzare la propria attività bisogna analizzare e codificare quali sono le richieste più frequenti e dare delle risposte codificate che sarebbe una cosa utile a prescindere dal fatto che poi a rispondere sia il chatbot oppure sia il neoassunto la neoassunta che magari appena entrata in un contesto conosce perfettamente il diritto amministrativo perché ha superato un esame un concorso però magari non conosce in maniera specifica la quotidianità di quel contesto lavorativo poi bisognerà mettere insieme per similarità semantica un insieme di domande e di risposte prefissate ma poi bisogna che sarà necessario che i database siano puliti nel senso che se noi decidiamo come correttamente diceva Monica Feletic di dare impasto al software all'intelligenza artificiale dei dataset prestabiliti è necessario che quel set di informazioni sia pulito che vuol dire che per esempio non possiamo nel caso dei pulmini scolastici non possiamo chiamarli una volta autobus scolastici una volta pulmini scolastici come magari ho fatto io nel corso della di questa esposizione è necessario che un elemento venga identificato sempre allo stesso modo perché altrimenti il il software non riconosce oppure per esempio i nomi delle vie non può essere una volta via una volta v puntata una volta maiuscolo una volta minuscolo è necessario che i dati siano appunto puliti e gli elementi vengano individuati e codificati sempre allo stesso modo quando si intendono le stesse cose allo stesso modo l'archiviazione deve essere coerente perché spesso abbiamo difficoltà noi stessi sui nostri computer io per esempio delle volte ho delle difficoltà a trovare l'ultima versione la versione definitiva di un documento che ho elaborato perché magari delle volte lo salvo denominandolo con la data poi versione ultima versione definitiva versione ultimissima versione inviata in amministrazione quando poi magari a distanza di mesi vado a cercare quel file non so più qual è la versione definitiva sì magari con la data però c'è una difficoltà a archiviare in maniera coerente e questo è ancora più vero e in ogni caso sarebbe un elemento di semplificazione a prescindere anche in questo caso dall'intelligenza artificiale perché magari se si lavora in più persone in più dipendenti nella stessa area nella stessa piattaforma nella stessa area di archiviazione sarebbe utile avere una modalità omogenea e coerente di archiviazione in maniera poi soprattutto non solo da archiviare ma da poterle ritrovare quelle cose quindi se le guardiamo con l'ottica dell'intelligenza artificiale diciamo del chatbot che deve attingere a delle informazioni archivieremo forse in una maniera pulita e coerente ma faremo un favore non soltanto diciamo all'intelligenza artificiale ma la faremo a noi per prima perché è un'ottica di razionalizzazione che dovrebbe esserci a prescindere dall'utilizzo di dispositivi tecnologici e ancora costruzione etica e inclusiva analisi dei sentiment che emerge dai post dalle interazioni per capire che impatto ha avuto l'azione della pubblica amministrazione questa magari è una cosa da fare successivamente a una prima messa in disponibilità dei dispositivi quindi provare a capire dall'interazione che tipo di risultanza che tipo di impatto ha avuto questo tipo di messa in disponibilità tecnologica con l'utenza la costruzione etica e inclusiva che è fortemente connessa a questo ha a che fare anche col considerare che magari se si è un piccolo comune in cui la maggior parte della popolazione ha un'età anagraficamente alta e probabilmente bisognerà ehm rendersi conto che non può essere demandato tutto soltanto ai dispositivi tecnologici che magari può essere molto efficiente il chatbot però eh la può costituire una barriera l'accesso all'innovazione tecnologica per popolazione per ehm cittadini popolazione che eh appunto non non ha un'abitudine un'attitudine e magari neanche i dispositivi per accedere a questo tipo di interazione quindi può essere perfetta diciamo dal punto di vista formale però non rispondere alle esigenze della cittadinanza locale e quindi in un'ottica di inclusività probabilmente bisognerà comunque mantenere una parte di eh sportello fitico per per interagire con con la cittadinanza un altro esempio di eh utilizzo dell'intelligenza artificiale questa volta in back office esclusivamente in back office è stato quello dell'Inps l'Inps gestisce potete immaginare milioni di pack ogni anno nelle quattrocentocinquanta sedi sul territorio eh prima di questa sperimentazione che adesso è diventata ordinarietà non più una sperimentazione le mail venivano smistate manualmente dagli operatori per essere inoltrate agli uffici competenti è stata individuata una soluzione di intelligenza artificiale che è in grado di interpretare le richieste degli utenti su temi specifici dell'istituto ovviamente quindi assistenza sociale o previdenza riconosce l'ambito e le invia all'ufficio competente ovviamente questo diminuisce di molto i tempi di risposta e migliora l'efficienza degli uffici questo ehm l'impatto che ha questo tipo di soluzione è un impatto positivo nel senso che eh quale può essere l'alert la problematicità perché può darsi che magari ci sia un errore un buco o un'allucinazione appunto come come dicevamo prima certo che ci può essere un errore nello smistamento e magari eh viene mandata una mail a un ufficio viene indirizzata una mail a un ufficio che non ne ha la competenza però lì è abbastanza semplice individuare poi la possibilità di rettificare l'errore è comunque una cosa che magari potrà comportare qualche giorno in più nel nei tempi di risposta ma che non pregiudica poi la eh diciamo la risposta o l'efficienza della dell'organizzazione un altro eh tipo io vi chiedo scusa sto guardando ora che sono le undici e venticinque quindi eh accelero ma il fatto che mi tranquillizza il fatto che avremo comunque un un altro webinar nel corso del quale approfondire questi e eh vi chiedo davvero di se queste queste considerazioni questi concetti che abbiamo condiviso vi hanno suscitato delle curiosità interesse o ipotesi che magari state immaginando eh di applicare nella vostra eh amministrazione o di verificarne l'applicabilità vi chiedo davvero di segnalarcele perché può essere utile sia affrontarle appunto nel corso del webinar successivo ma il punto di forza diciamo del del progetto è il fatto di avere eh consulenti sul sul territorio quindi eh non sarà soltanto qualora voi aveste un interesse su questi temi nell'ottica della semplificazione non sarà soltanto un un'esposizione accademico teorica nella prossima webinar ma nel tempo intercorrente potremo venire direttamente eh nelle vostre amministrazioni per verificare sulla base di quello che ci segnalerete in chat o comunque ovviamente nelle modalità che eh che abbiamo già sperimentato nel corso del delle interazioni di questi metri potremmo verificare direttamente con con voi le le possibilità non necessariamente tecnologiche perché poi eh c'è una parte appunto tecnologica e informatica che esula dalle competenze della maggior parte di noi però intanto potremmo verificare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro se eh l'intelligenza artificiale è può essere un elemento di semplificazione nei vostri contesti oppure è un elemento di complicazione quindi io mi fermerei qui per per chiedervi se ci sono delle delle domande volevo comunque lasciare qualche minuto alla fine e poi approfondiremo nel nel corso del prossimo webinar tutto quello che avevo previsto di dirvi oggi ma mi sono dilungata molto perché alcuni concetti secondo me era utile almeno in una fase iniziale provare a a condividerli in una maniera abbastanza ampia vedo una vita che si materializza vedo anche Carmen che si materializza vuoi fare una domanda no non ho domande volevo ringraziare veramente per la chiarezza espositiva l'interesse e il coinvolgimento su un tema che io conosco molto poco io sono una giurista quindi per me è un tema nuovo e veramente ti ringrazio molto per gli spunti la ricostruzione introduttiva e farò veramente riflessioni sulle cose che sono state formulate quindi grazie davvero piuttosto che scriverlo in chat l'ho voluto dire personalmente grazie mille e io mi posso solo associare al ringraziamento per la chiarezza e c'era in chat c'era un'ulteriore riflessione che mi sembrava più che condivisibile sempre Monica che ci diceva che più di che di intelligenza artificiale si dovrebbe parlare di conoscenza artificiale quindi seguendo quello che è il tuo discorso Tonia quindi una conoscenza che l'uomo ha raggiunto dice Monica ha messo a disposizione delle macchine attraverso i dati di cui le macchine stesse si nutrono e questo questo primo webinar la forza di questo primo webinar mi sembra proprio questa cioè il poter riflettere noi siamo abituati a vedere a qualezza o a vivere sì come un intruso o i chatbot e non fermandoci non avendo mai tempo per fermarci a riflettere e quello che c'è intorno cioè o meglio intorno a sintassi per per arrivare a quel prodotto quindi io mi pare che non ci siano né riflessioni né domande vi invito però soprattutto i rappresentanti del dei comuni vi invito come diceva Tonia a riflettere sui temi che sono stati esposti oggi e se ci sono poi delle riflessioni durante nel periodo tra il primo e il secondo webinar vi daremo poi ovviamente notizia del secondo webinar mi invito a scrivere alla posta di progetto per sottoporle ottenerle e poi proporle nel secondo webinar proprio per per portare un contributo alla ai lavori della giornata come come spesso chiediamo e detto questo ringrazio ringrazio Tonia ringrazio Uri per per aver partecipato e la registrazione sarà disponibile su territori in rete come sempre e anche questa prima parte di slide e vi do appuntamento al 28 di maggio per il secondo webinar di Leonardo Bertini sull'ingegnerizzazione dei processi anche qui come stiamo facendo questo ciclo di webinar primaverile per FAST avete visto che c'è stato un primo un primo webinar anche lì di di contesto anche abbastanza spiazzante visto che il contesto lì è un po' più internazionale e e poi adesso invece nel secondo webinar si cercherà di calare nelle realtà anche nelle piccole realtà con le quali il progetto opera e quindi calare questi temi temi delle generalizzazioni dei processi nelle in realtà più vicine alle alla vostra attività quotidiana ringrazio ancora tutti e vi auguro molto il seguimento di giornata grazie arrivederci